Ancora una volta c'è ragazzi e benvenuti nel posto d'Arkjost Oggi faremo la riflessione di questo bel taglio di guanti della Necenix Questo secondo me lo dovrò fare per la descrizione Ecco qua Tra l'altro non lo conosco, avete la descrizione del video E ora proviamo a rinzozzare questi guanti perché sono i miei guanti della Necenix Questi dovrebbero essere se non sbaglio l'ultimo modello che sono uscito Cioè adesso è uscito E il ragazzo dell'opposimento dovevano mesi aderenti No, mesi aderenti, quindi C'è un ragazzo più piccolo Che ne faccio una mano C'è un ragazzo più piccolo E il cascato a terra non è uscito C'è un ragazzo più piccolo All'interno di quanto qua possiamo vedere Questi sono quel fondo Dove l'aria passa Quindi Il sudore della mano dovrebbe trapassare e evaporare Per il primo contatto con la pelle E' ottimo Il contatto con la pelle E' ottimo Il contatto con la pelle E' ottimo Il frattente Ci sono molto resistenti Qua possiamo notare che con una mano possiamo aiutare queste rivette qua, dove se noi andiamo a piegare, scusate faccio la cucina ragazzi, se io vado a piegare, guardate ragazzi, qua si aprirà. Poi ci saranno diversi scritte, ci saranno questi forellini, qui, se lo vedete anche da qualche parte, se riesco ragazzi questo prodotto lo troverete forse nella descrizione, anche se ad un altro sito, quel sito è il sito di quel ragazzo adottato lo shop online del ragazzo che l'ho acquistato per problemi personali, cioè non riuscivo a gestire tutti e due, sia i negozi che i negozi, non riuscivo a gestire, non riuscivo a gestire, non riuscivo a gestire, non riuscivo a gestire, non riuscivo a gestire. Per venire che ci sono veramente poco, ora proveremo anche un scegliamento. Se senti il rumore di vento io, di uscire o a vento sinistrale, ho il vento che non c'è solo. Guardiamo una delle delle tendesse in cui esce, ancora una nuova che qui ci ha fatto una ripensione per se riesco a mettere la descrizione perci, secondo le numeri ci sono dei limiti che saranno usciuti qui, lo troverete facilmente. grazie ci sono i miei già ho fatto la recensione quindi vi sento nella sezione video vediamo qui lo vedete ho fatto qualche recensione allora veramente comodo cioè ti riesce un nuovo la scuola la scuola su questi ragazzi se vedete qualche pezzo è perché se sto facendo una prova su qualche pezzo che ci vorrei mettere sopra ci faremo ci farò più a più ragazzi sto aspettando un attimo qua su e dopo veramente veramente comodo con le recensione ragazzi proprio va nella sala ci sono tutti i miei accambi ci sono questo soccorso potete dire della vita della vita anche per questo questo è stato un'altra cosa di nuovo che si fa questo è stato un'altra cosa che si fa il nostro sistema che si fa il nostro e poi ci vedremo anche il custom perché ragazzi dopo mi dite i tagli il shopping e il custom appena possibile quando mi sarà attivata la nuova in secca comunque l'ho tutto fatto customizzare perché diventerà full custom io all'interno all'esterno lo forro tutto come dico io non lo so non lo so non lo vedo di più e niente ragazzi ora farò il secondo qualche shopping allora ragazzi saluto fox in un momento comincio a salutare il box del black water software crazy blackboard gecko tutto il team di blackvotel per chi non avessi ancora fatto il nome il comandante supernova angelo softair rator ghost jenny e non mi sono dimenticato dei primitri del comandante supernova mastergino mastergun e di un attimo di un attimo e saluto con grande cuore che vengono l'alba a giocare sperando che per questa volta è tutto prima di dire tutto il resto qui sotto nella descrizione troverete tutti i link dei loro canali separati vi troverete qui sotto nella descrizione il loro instagram sarà sempre nella del loro descrizione del loro video non la metto perché sennò non la metto questo però se la resta a mettere johnny un picciore che c'è tempo scrive diverse cose non collare il link fare altro genere quindi ragazzi pure anche pubblicare un video quindi ragazzi se non troverete il loro instagram sotto nella descrizione potete vedere ve lo farò lasciato da loro nei commenti se non lo lascerò nel primo commento non lo so ma vedono e niente ragazzi ricordo per chi è nuovo iscriversi a fare la campanina per questo non lo so ma io non lo so lasciate tantissimi like lasciate anche un bel commento su questo pait guanti se avete qualche domanda Ovviamente quando farò il prossimo video, anche se non c'entrerò nulla con quel video che dovrò fare, io risponderò alle vostre domande, oppure vi risponderò sotto nei commenti, oppure su Instagram. Il mio Instagram, su Instagram mi chiamo blackfrostgame.com, vi consiglio di copiare il nome del mio Instagram e collando su Instagram, così vi trovate più facilmente. Ehm, raggiungiamo tantissimi polizzi in su, quindi tantissime play like e niente ragazzi, spero che questi video vi siano piaciuti, spero che questo qua sarà uno dei minuti che avrò caricato, se non è il secondo caso. Comunque ragazzi voglio dire anche che del mio casco farò anche un video a parte dove lo customizzerò, quindi ragazzi per quello anche voglio un sacco di pollici, un sacco di pollici in su, perché ragazzi ho fatto due bei video ragazzi che vi piaceranno di sicuro. Allora la recensione del CM16 Ryder e il custom di caricatori, dove ci ho messo un pezzettino, una cosetta che non ne voglio dire, però, qui sotto, se ne andate nella playlist dove stanno i video, voi lo troverete, lo troverete tutti qua, perché no, vi consiglio di vedersi tutti i video che ho fatto, e anche una piccola live sponsorizzazione per i merci. E niente, saluti tutti, saluto anche qualcuno del team del CM16 Ryder e spero che vi possano rientrare anche un po' più, e se voleranno i signori di nuovo video, come vi sentite mi piace, questi ragazzi, se volete il mio numero ce l'avete, anche so quando mi chiamo, mi chiamate e io vengo a giocare, sono sempre a disposizione, e niente ragazzi, Per questa volta è tutto, ci vediamo in un prossimo video, unboxing, un uvito, perché mi devo organizzare meglio su qualche cosa, perché sto aspettando ancora un bellissimo ordine con cui uscito, devo fare una recensione tantissimo tempo fa, in realtà sono due mesi che sto aspettando, un uvito, sì, ok, ascolti, carica l'internet, dovranno andare in internet, perché ragazzi, sto per ordinare con la CC, che vi piaceranno moltissimo, va bene ragazzi, ciao. Ciao.